Dobbiamo abbandonare il vocabolario della prima e della seconda repubblica, questa è la terza repubblica, qui non ci sono alleanze tra le forze politiche, le forze politiche fanno un passo indietro e fanno un passo avanti i cittadini, lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il Presidente della Camera Roberto Fico. Dobbiamo abbandonare il vocabolario della prima e della seconda repubblica, questa è la terza repubblica, qui non ci sono alleanze tra forze politiche, qui le forze politiche fanno un passo indietro e invece fanno un passo avanti i cittadini con i loro temi e i loro problemi, quello che stiamo cercando di fare qui è mettere al centro le questioni non risolte da 30 anni e cominciare a risolverle. Sono stati fatti passi avanti importanti che vogliamo riconoscere. Il reggente del PD Maurizio Martina all'uscita con la delegazione DEM dall'incontro con il Presidente della Camera Roberto Fico conferma la volontà di andare avanti nel confronto con i 5 Stelle. Portato il Presidente Fico le nostre valutazioni in ordine a quello che è accaduto in questi giorni, noi riconosciamo e registriamo passi in avanti importanti che vogliamo riconoscere, in particolare rispetto ad alcune richieste, una richiesta fondamentale che avevamo avanzato già al primo giro di consultazioni con il Presidente Fico relativa alla necessità di chiudere definitivamente una fase, quella diciamo del confronto, della trattativa, del percorso che il Movimento 5 Stelle aveva tentato con centrodestra e Lega. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF a politiche invariate che non contiene parti programmatiche e riforme che spettano al prossimo governo e che fotografa la situazione tendenziale dalla quale emerge un quadro positivo. Ha dichiarato così il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Sapete che si tratta di un DEF particolare, un DEF come si dice in gergo a politiche invariate, cioè che non contiene la parte programmatica e delle riforme che spettano al prossimo governo. In sostanza fotografa la situazione tendenziale dell'economia italiana. Da questa fotografia credo emerga un quadro positivo che riflette, credo, il buon lavoro che è stato fatto in questi cinque anni. Il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha ricevuto dal Direttore Generale del gruppo PSA, Massimo Roserba, quattro auto elettriche incomodate d'uso per fini istituzionali. Si tratta di due Citroen C0 e di due Citroen Berlingo. Il futuro per la mobilità è una mobilità chiaramente elettrica. Adesso ai nostri partner si aggiunge anche Citroen che ci aiuta iniziando a rinnovare anche la flotta dei veicoli di Roma Capitale. Questo è un inizio, dobbiamo continuare così. Allo stesso tempo stiamo lavorando sulla mobilità sharing e sullo sharing elettrico. Abbiamo, come sapete, approvato da poco il regolamento colonnine, per cui entro il 2020 siamo fiduciosi di installare almeno 700 colonnine in tutta la città, magari anche di più, e quindi incentivare piano piano la modifica proprio del parco che circola in città. Ora è ufficiale. La gara di sabato sera tra Inter e Juventus vedrà polverizzare ogni record al botteghino. Oltre 5 milioni di euro d'incasso, frutto dei 78.328 biglietti venduti, saranno un primato non solo per la Serie A, ma per tutta Italia. Lo ha comunicato l'Inter con un tweet ringraziando i tifosi. Con 78.328 spettatori si legge Inter-Juventus è sold out, oltre 5 milioni di incasso, record assoluto per il calcio italiano, grazie Inter-fans. Viene quindi battuto il record precedente, rappresentato dai 4,8 milioni registrati nel derby d'andata contro il Milan. Un piano ambizioso per la prossima stagione che possa garantire alla Lazio ancora una volta un grande campionato. Un mercato in entrata mai visto e che in caso di qualificazione alla prossima Champions League lo sarà ancora di più. Al momento a disposizione di Tare ci sarebbero circa 65 milioni di euro per rendere la squadra a disposizione di Simone Inzaghi ancora più competitiva. Numeri che non competono, ancora con quelli sul mercato di altri club come Juventus, Inter o Milan, ma che è considerato il lavoro ottimo portato avanti in questi anni, seppur con budget limitati. Potrebbero far arrivare a Formello rinforzi davvero importanti. Zlatan Ibrahimovic non giocherà alla Coppa del Mondo. Ho parlato con lui, mi ha detto che non aveva cambiato idea, non vuole tornare, non farà dunque parte del gruppo per la Coppa del Mondo che sarà annunciato il 15 maggio. Con queste parole, il DS della nazionale svedese ha definitivamente messo fine alla telenovela sulla partecipazione al prossimo Mondiale di Russia 2018 del fuoriclasse ex United. Dopo l'annuncio di Assev e Guerre che a fine stagione, al termine di 22 anni alla guida, lascerà la panchina dell'Arsenal, sono iniziate le voci su chi prenderà questa pesante eredità. I nomi sono tanti, si parla di Viera, Sarri, Allegri e Ancelotti, ma in pole position, secondo il Desan, c'è Luis Enrique. Se l'ex tecnico del Barcellona dovesse sedersi sulla panchina dei Gunners, di sicuro i londinesi entrerebbero nella corsa per il cartellino di Rajana Ingolain. Il belga ha molti ammiratori oltre Manica, tra i più interessati il Manchester United e il Chelsea. Il centrocampista della Roma piace molto all'allenatore spagnolo e ha valutato 45 milioni di sterline, circa 51 milioni di euro. Se le supposizioni del Desan fossero giuste, il futuro del Ninja potrebbe essere in Premier League. Grazie. Grazie.